Sono Michela Gallo, sono una scrittrice del Montello, sono qui per presentarvi il mio libro Tutto ciò che serve amore, parla di una ragazza lesbica che sono io e vuole trattare degli argomenti che sono ancora tabù nel nostro territorio, che è l'amore omosessuale. Purtroppo c'è ancora tanto a fare nel nostro territorio per abbattere questi pregiudizi verso gli omosessuali. Io con questo libro in chiave di poesia spero di combattere questi pregiudizi e farvi conoscere me come sono come persona genuina, come si vede dall'intervista, come sono sempre. Mi voglio solo far conoscere tutte le persone contrarie all'omosessualità. Ragazzi, dobbiamo tenere duro e lottare pacificamente contro questo meccanismo che è malato, perché tutto ciò che serve è amore.